L'Italia, il paese che ospita il più grande patrimonio artistico dell'umanità, un posto in cui da sempre turisti e viaggiatori ammirano il Colosseo, rimangono affascinati dai canali di Venezia, vanno in estasi di fronte ai maestri del Rinascimento. Eppure in Italia ci sono anche migliaia di capolavori di arte contemporanea, nelle piazze, nei musei, nei palazzi storici, persino nei luoghi più inaspettati. Noi vogliamo darvene un assaggio. Siete pronti? Io sono Nicola Sballario e questa è Italia Contemporanea, una serie in quattro puntate che vi porta alla scoperta del bel paese attraverso i luoghi dell'arte più recente. Grazie a tutti.